Creami un panda rosso. No! Ti ho chiesto un panda rosso. Così ci siamo è davvero adorabile. Questo panda aveva il brutto vizio di mangiare in continuazione. Continuò a mangiare e iniziò a crescere. Divento così grosso da occupare l'intero zoo. Wow, è un panda enorme ed è adorabile. Lascia like e iscriviti se vorresti adottare un panda.